Ciao ragazze, ben ritrovati sul mio canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, sono arrivati i primi kit di Camilla di Glitter Lab del 2020, quindi il primo stickers book di Camilla del 2020, ed è con questa copertina carinissima, dietro come sempre Anna Maria ci mette il bigliettino da visita con il die cut inerente al mese di corrente. E quest'anno Anna Maria ha deciso di creare due tipologie di cosi, ovvero continuare con lo stickers book che credo abbia un pochino modificato, in più creare un kit a parte, chiaramente sono due acquisti separati, cioè nel senso che se uno vuole acquistare una cosa può farlo, se vuole acquistare solo lo stickers book altrettanto, se vuole acquistarli tutti e due lo può far tranquillamente, io ovviamente non posso perdermi niente di Camilla e quindi ho deciso appunto di acquistarle tutte e due le cose. Praticamente ha deciso appunto di creare quest'anno lo stickers book, scusate, il kit stickers per la Ubonici, quindi dato che è una cosa nuova, quest'anno io direi di iniziare proprio da questo kit per l'Ubonici, che è tutto a tema neve, gennaio, freddo, fa un freddo boia, e poi, oh, no Anna Maria ma questo non me lo dovevi fare, cioè io praticamente avevo uscito le cose dal pacchettino ma non avevo girato, c'è Anna Maria ma che hai fatto? Ma sei una pazza, ti ringrazio, ti ringrazio, io in realtà ho ancora altri tre fogli per la corsa, forse non te lo ricordavi che ne avevo fatto scorta l'anno scorso, però guarda ti ringrazio, è successo tutto che io ho postato una stories su Instagram dove praticamente c'era l'ultimo stickers di Camilla che corre, con una faccina che piangeva, e lei mi ha mandato un messaggio e mi scrivevo sempre a correre stai, purtroppo ho ripreso con la corsa perché qua bisogna mantenere i chili persi, che non sono pochi, quindi bisogna mantenere appunto la costanza sulla corsa, anche perché onestamente mi sto ben benino rassodando, quindi direi che dopo un anno finalmente i risultati si vedono, purtroppo io correndo tre volte alla settimana, quindi tre stickers alla settimana vanno via, però ho anche altri fogliettini, non ricordo male, se non ricordo male erano tre o quattro, Sheldon! Scusate ma stava graffiettando sulla porta della camera da letto che vuole entrare in stanza, va bene, non dilunghiamoci troppo, vi faccio vedere questo kit, dai, no si è andato a... no vabbè solo a me possono succedere queste cose, scusate se arrivano i messaggi qui... allora vediamo tutto, grazie comunque ancora di cuore Anna Maria, mannaggia te mannaggia... allora vabbè questo è il fogliettino per chi non lo sapesse, c'è una sezione nella pagina, scusate, nel gruppo Facebook di Glitter Lab, dove si può acquistare i fogliettini numerati, quindi con le varie cose che fa Camilla, in questo caso la corsa è lo 037, per chi volesse acquistarlo, chiaramente Anna Maria ha creato dei pacchetti, quindi si possono acquistare più foglietti risparmiando. Allora, uh che carini, io direi proprio di iniziare da questi, perché ho visto tanto le foto, ma io non ne avevo ancora aperte, mi è dispiaciuto tantissimo, che dicevo quando aprirò, quando aprirò le mie cose, eccole qui, che carine, guardate ragazze, Gabriele, quello ti cade addosso e ti fai male mamma. Allora, abbiamo, oh che carino, abbiamo Camilla con il pupazzo di neve, sono dei die cut in coordinato a in coordinato agli stickers per l'aubonici, oh che cari c'ha, abbiamo poi Daphne in versione regina dei ghiacci, ecco qui, qui abbiamo Daphne in sempre più o meno versione regina dei ghiacci, con dei cristalli dietro, e qui abbiamo Daphne regina proprio, cioè regina e basta, con lo scettro che carino, che devo dire ricorda molto quello di Sailor Mercury, Anna Maria dimmi se ti sei ispirata a quello di Sailor Mercury, scusate se ho le dita un po' sporche, ma mi sono messa lo smalto prima di fare il video, e ho combinato dei papocchi che non potete immaginarvi, perché io ci tengo ad avere perlomeno le unghie un pochino sistemate, e quindi ho cercato di mettermi il più velocemente possibile lo smalto. Allora, andiamo avanti, praticamente questo, non vorrei sbagliare, ma non ne sono sicura, aspettate perché mi devo rendere conto, allora aspettate, aspettate, perché io non ho visto, io quando dovete sapere, l'ho detto anche ad Anna Maria, che quando Anna Maria mette i post di prenotazione, io le cose che leggo sono soltanto il giorno, l'orario, cosa è uscito nel senso che non so cosa è incluso nel pacchetto, ma cosa deve uscire, tipo lo stickers book, il kit, eccetera, eccetera, io vedo solo queste cose importanti, quindi non vedo neanche il prezzo, che ne so se fa uno sconto, una cosa, io guardo il prezzo finale, e mi rendo conto, e di quanto devo pagare, praticamente però non so cosa c'è all'interno di queste cose che acquisto, Anna Maria mi prende in giro ogni volta, che dice, ma almeno leggi quello che c'è scritto, perché io tipo, se acquistavi tutte e due le cose, c'era uno sconto, no? Io invece ho pagato il prezzo pieno, sommando le due cose, cioè non ho fatto caso che c'era lo sconto, vabbè, che ve lo dico a fare, quindi praticamente io non so neanche che cosa è incluso nel pacchetto, allora sì, era come immaginavo, oh che carino, ma c'è una marea di roba raga, non lo sapevo, allora, questi praticamente servono per coprire le settimane, quindi per da mettere in, sulla settimana, e ci sono appunto i vari sticherini per abbellire, quindi abbiamo questa, poi abbiamo questa qui, che chi ha lo boni ci sa come si utilizzano questi banerini, poi abbiamo questi appunto per decorazione, quindi con tutti i to do, today, eccetera, eccetera, qui ne abbiamo un altro, questo credo che sia anche per la versione mensile, volendo, per coprire la versione mensile, ecco qui, che carino, guardate, cioè, scusate il sottofondo di mio figlio, ma non posso farci nulla, ah no, questo è per coprire la versione mensile, che carino, è questo qui, weekend, this week, eccoli qua, e questi sono, scusate se corro, ma ho poca batteria, scusate, volevo dire, ho poca memoria sul telefono, non vorrei combinare dei casini, nel senso che si ferma il video, adesso vediamo quello che c'è, eh sì, chiudi, quello che c'è incluso, nel, nello stickers book, tipo anche qui, io non so, quali sono gli stickers, che sono inclusi all'interno, del, dello stickers book, e non so neanche il die cut, qual è, questa è la cosa bella, oh che carina, ma chi è? no vabbè che carina, ma chi è? nessuno, niente mamma, non ti preoccupare, Camilla, ah da notare che mio figlio dice bene Camilla, Gabriele, devi dire Camilla, Camilla, mi fa troppo ridere, un giorno mi vede la calamita sul frigorifero, mi fa, mamma chi è? e io gli dico Camilla, ah Camilla, allora abbiamo lei in versione pappusciosa, gennaio, e poi abbiamo l'altro die cut di Daphne, quello che vi ho fatto vedere prima, ecco il suo bigliettino da visita, con tutte le varie cose che, eccole qui, oddio si sta prendo tutto là, mi sta oscurando il tutto per tutto qui, allora come vi avevo detto, qui abbiamo lo stickers book, eccolo qui in aperto, che caruccio, e poi abbiamo prima pagina, quindi Camilla tutta, che carina questa, troppo bella, aspettate se mi mettesse a fuoco questo, oh guardate che carina, hello winter, oddio, leggendo la parola winter, mi viene troppo da pensare al trono di spader, al trono di spader, winter is coming, allora questo praticamente è un tab, con tutto il mese di gennaio, cioè guardate che carino, questa parte qua praticamente spunterebbe dal lato, qui abbiamo tutte queste cose, allora poi abbiamo la seconda parte con tutta Camilla, 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 che carino, il bicchierozzo di starbuck, no adoro, ecco qua, queste sono le varie cose, not today, bellissimo, ecco qui, qui abbiamo aggiunto anche Daphne, poi qui c'è Camilla che si pesa, il mio dramma più grande adesso, ecco qui, oddio, no adesso non è più un proprio un dramma, però è una paura che se, magari mangi qualcosina in più che non devi, ti pilla la paura di dire, ho preso minimo un chilo, invece no, per fortuna, posso mangiare qualche volta, mi capita anche di non seguire la dieta, perché purtroppo se sto ancora a dieta, sempre a dieta, anche se ho perso 16 chili però, allora, questo è il mio, diciamo che questo è quello che mi va via sempre tutto, in un nulla, e qui ci sono i vari, così che servono, bene ragazze, io vi ho mostrato tutte queste belle, 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 belle cose, ringrazio ancora Anna Maria per il regalo, ringrazio Anna Maria per aver creato queste bellezze, perché sono troppo, troppo, veramente troppo belle, e voglio metterle subito nella mia, nella mia nuova agenda, e quindi vi, eventualmente vediamo se posso utilizzarle per fare un setup, vediamo un po' che cosa ne esce fuori, va bene, io vi ringrazio per la visione, grazie a tutte per avermi seguito, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao, grazie Anna Maria, ciao,